28,2 è la percentuale di raccolta differenziata del comune di Foggia, penultimo in Puglia, lontanissima dal 65% considerato obiettivo ottimale. Cifre che attestano un dato di fatto, a Foggia la raccolta differenziata è una sconosciuta. Si vince insieme, l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata è un obiettivo che AMIU può raggiungere solo e insieme alla città. Hauser, CGL e Lega Ambiente non hanno dubbi, la raccolta differenziata è una sfida da vincere con un'alleanza civica e per questo propongono analisi e riflessioni ancora prima di un progetto di intervento in rete. La ricaduta che ognuno può avere sul contesto sociale di questa città è da prendere con le molle, da valutare alla luce di quello che è il tessuto sociale e di quello che è il contesto di relazioni che si realizza in questa città. È una città problematica, è una città che va rieducata. Mi piace invece pensare a quello che stiamo già facendo. Ad esempio attraverso la raccolta porta a porta che stiamo facendo proprio con le utenze non domestiche, in particolare nelle aree mercatali, rafforzeremo il servizio di raccolta differenziata stradale e lo faremo anche in forza degli investimenti che saranno effettuati, in particolare con i cosiddetti cassonetti intelligenti che ci aiuteranno a qualificare maggiormente il servizio di raccolta nella città di Foggia. Obiettivo comune dopo 40 anni di tentativi non riusciti e per superare la sottocultura è puntare su investimenti e organizzazione. Questo è un percorso che AMIU non può fare da sola, deve necessariamente fare insieme alla città di Foggia e ai cittadini. Ci vuole una maggiore coscienza e soprattutto maggiore senso civico.